Notizia di Prato Tg, a tutti buonasera. Una spaccata a colpi di tombino in un centro estetico in via delle fonti. I ladri fuggono via con un computer e qualche soldo. Guardate. Ancora una spaccata l'ennesima, questa volta a farne le spese, è stato il centro estetico Chicco Duva in via delle fonti. Una delle vetrate è stata spaccata a colpi di tombino la notte scorsa. I malviventi sono fuggiti via con un computer portatile e con il fondo cassa, circa 220 euro. La mara scoperta sta a mani all'apertura. È un brutto regalo stamattina. In vent'anni di attività mai è successa una cosa del genere. E ci si rimane molto male per una cosa del genere. Hanno spaccato tutto il vetro, con il tombino, sono entrati dentro, hanno preso 200 euro che c'erano nella cassa e il computer. I ladri non sono entrati neppure dentro il negozio. Una volta spaccata la vetrata, hanno allungato le mani e hanno arraffato tutto il possibile. Il banco della cassa è sistemato proprio a ridosso della vetrina e dunque è stato un gioco da ragazzi. Malviventi alla ricerca, evidentemente, solo di qualche soldo facile. Ho roba di valore, ho bracciali di valore, profumi importanti. Non hanno su casa niente. Hanno preso solamente gli spiccioli, 200 euro e basta. Il resto hanno lasciato tutto. Nessuno avrebbe sentito rumori, tanto che il colpo è stato scoperto solo stamani al momento dell'apertura. Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri. Grave incidente nella mattina di oggi a Savignano, nel comune di Vaiano. Poco dopo le 13, un uomo di 52 anni è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre tagliava un albero. È finito in un piccolo corso d'acqua, il rio Lanosa, all'altezza di via di Lavacchio. Sul posto è sopraggiunto l'elisoccorso Pegaso, inviato dal 118. I vigili del fuoco di Prato con una squadra SAF per recuperare il ferito. L'uomo è stato portato all'ospedale Fiorentino di Careggi con un trauma toracico. Non ha mai perso conoscenza. I commercianti fanno rete contro il crimine. Gruppi Whatsapp e sito web per una sicurezza partecipata. Vi dice tutto Eleonora Barbieri. Confesercenti lancia un progetto di sicurezza partecipata che attraverso un sito, gruppi Whatsapp, geolocalizzati e seminari formativi gratuiti aiuterà i commercianti a sentirsi più sicuri e ad avere un canale diretto con le istituzioni. L'iniziativa, nata come risposta al bisogno di tutela manifestato dagli iscritti in un recente sondaggio, è stata lanciata questa mattina dal presidente dell'Associazione Mauro Lassi e dal colonnello dei Carabinieri, Carlo Corbinelli, consulente di Confesercenti. Partiamo dai gruppi Whatsapp. Saranno piccoli gruppi corrispondenti ai comuni della provincia e, nel caso della città, ai suoi quartieri, in modo da rendere più efficace la gestione e l'eventuale intervento. Sul nuovo sito, creato ad hoc, sicurezzapartecipata.com, è già attiva una sezione in cui le imprese, anche non socie, potranno iscriversi per... ...segnalare quello che può essere il problema. E il problema della sicurezza non è solamente l'episodio criminoso e molto probabilmente se quello affronta un episodio criminoso probabilmente va in questura o da Carabinieri a fa una denuncia, piuttosto di scriverlo sul gruppo Whatsapp, ma magari anche le cose quotidiane. C'è una lampada bruciata in quella strada e pertanto la zona diventa buia. Poi c'è magari brutte persone che si aggirano nella zona e in quel caso lì non ho subito un qualcosa di certo, ma ho solo quella sensazione e scrivendo al suo gruppo avverto immediatamente tutti e poi da parte nostra provvederemo a informare chi di competente. Non solo segnalazioni, Confesercente ha organizzato il ciclo di incontri in negozi sicuri per dare consigli utili ai commercianti in fatto di prevenzione dei reati e di sicurezza partecipata. I seminari sono curati dal colonnello Carlo Corbinelli. Si comincia lunedì alle 20.30 nella sede di Confesercente in Via Pomeria e si prosegue il 29 gennaio e il 5 febbraio. Più rilevanti in questa zona che sono ovviamente i reati predatori, che cercheremo di illustrare quali sono le caratteristiche di questa attività illecita in modo che essi possano poi assumere le misure di difesa fisica, le misure di difesa tecnologica, le misure comportamentali e soprattutto le procedure di collaborazione fra loro stessi e verso le forze di pulizia. Due inchieste sull'Andrangheta, entrambe con riflessi su Prato, arresti e sequestri di beni mobili e immobili. Intanto Prato Libera e Sicura chiede che venga istituita in Consiglio Comunale una commissione speciale d'inchiesta. Due distinte operazioni contro l'Andrangheta estese anche a Prato e la richiesta di una commissione speciale in seno al Consiglio Comunale per spiegare l'impennata dei reati di riciclaggio in città. La prima operazione del ROS, denominata Stige, 169 arresti tra Italia e Germania, la seconda della DIA di Firenze, con il sequestro di immobili, attività, quote societarie e conti bancari a un imprenditore calabrese da anni trapiantato in Toscana e ad altre 5 persone ritenute prestanome. Non è la prima volta che inchieste sulla criminalità organizzata calabrese investono il territorio pratese. I militari del ROS hanno arrestato un imprenditore edile di 46 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Gli investigatori non hanno trovato collegamenti diretti con le cosche ma solo rapporti di tipo economico, comunque sufficienti a far scattare l'arresto compiuto dal ROS e dai carabinieri di Prato. Per quanto riguarda l'inchiesta della DIA, c'è anche un complesso immobiliare a Prato tra i beni sequestrati a un imprenditore calabrese di 81 anni e riferibili anche ad altri 5 uomini, 4 calabresi e un emiliano. Il sequestro di beni, valore 4 milioni di euro, è stato fatto oltre che a Prato, a Firenze e Crotone. I sei sono accusati dalla procura fiorentina di concorso in evasione fiscale e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro del complesso immobiliare Il Teatro nella zona del Pino, del bar Pasticceria Caldana e Il Barco e del ristorante Pizza Man a Firenze, oltre a quote societari e rapporti bancari. Secondo gli investigatori, il principale indagato avrebbe nel tempo effettuato una serie di ingenti investimenti tra Prato e Firenze, nonostante l'assenza di capacità reddituale. All'attenzione degli inquirenti, inoltre, il presunto trasferimento di denaro a una delle endrine calabresi, l'agiglio di Strongoli. Il Comune di Prato, alla richiesta di Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e Sicura, istituisca una commissione consigliare speciale che faccia una serie analisi sulla presenza in città di organizzazioni delinquenziali o mafiosi e dedicate al riciclaggio, peggio ancora ad attività estorsive. Alla luce di recenti arresti e sequestri compiuti a Prato e vista la classifica del sole 24 ore che pone la città al primo posto per il reato di riciclaggio, mi sembra doveroso che il Consiglio Comunale svolga accertamenti. In caso di risposta negativa, conclude Milone, questa amministrazione e la maggioranza si assumeranno una grave responsabilità. Minacce e sputi al nonno vigile in servizio davanti alla scuola, elementare Anna Frank di Invia Maroncelli a Oste. La denuncia arriva dal Comune di Montemurlo che immediatamente ha risposto attivando la Polizia Municipale per risalire all'autore del gesto che sarebbe un genitore che aveva parcheggiato sulle strisce pedonali mettendo a rischio la sicurezza dei bambini. Quando il nonno vigile lo ha redarguito, l'uomo ha replicato con parole pesanti, minacce e sputi, tutto questo di fronte ai bambini. L'episodio è stato subito riferito al sindaco Mauro Lorenzini che ha attivato la Polizia Municipale per svolgere indagini in modo da risalire al responsabile di questo e di episodi precedenti. Guidava il ciclomotore senza indossare il casco, senza mai aver conseguito la patente, privo di assicurazione e con il mezzo che non aveva sostenuto la revisione, così come previsto dalla legge. Il motociclista, un cinese, è stato multato per un importo di 6.140 euro. Il ciclomotore è stato sequestrato e è accaduto ieri nella zona del Macrolotto Zero. E stamani invece in Via Valentini un'altra pattuglia della Municipale ha fermato per un controllo un'auto alla cui guida c'era un cittadino straniero di 30 anni, già sanzionato altre volte negli ultimi mesi per guida senza patente. È scattata una nuova denuncia e come nei casi precedenti anche questo ulteriore veicolo irregolarmente guidato è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca. Durante altri controlli, in Via Fabio Filzi, è stato sequestrato anche un BMW sprovvisto di copertura assicurativa guidato da un cinese di 46 anni che aveva anche la patente scaduta. Viabilità, cambiamo argomento, lasciamo la cronaca e dal governo arrivano 17 milioni, 15 per il soccorso, il resto per la strada regionale 325. Barbieri. Pioggia di milioni in arrivo dal governo per la viabilità pratese è quanto deciso dal Cipe che oggi ha stanziato un totale di 17 milioni di euro destinati al raddoppio del soccorso e agli interventi sulla SR325. Le risorse tratte dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 sono state attribuite accogliendo le richieste del Presidente della Toscana che ha indicato 16 interventi sulle infrastrutture come prioritarie strategici per migliorare la mobilità in varie parti della regione. Al raddoppio della declassata nel tratto del soccorso attraverso l'interramento della strada andranno 31 milioni ai quali si aggiungono i 5 del Comune per la complanare, gli espropri e il parco che sarà realizzato sopra il tunnel. Il Cipe ha oggi destinato 15 milioni che si aggiungono ai 16 già stanziati di cui 11 da Annas e 5 dallo stesso Cipe utilizzando il Fondo sviluppo e coesione 2007-2013. Responsabile della realizzazione dell'opera sarà Annas. Altri 2 milioni e 710 mila euro sono stati destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento della SR325 della Val di Bisenzio. Si lavorerà per migliorare la sicurezza stradale intervenendo sul tratto della Bonosa nel Comune di Vernio di sé stato interessato da Frane. Nella zona in questione la strada ha un andamento sinuoso e una pendenza significativa. Sarà quindi fatta una deviazione di 200 metri dell'attuale tracciato verso il versante di monte con la realizzazione di una trincea o di una galleria in modo da ottenere una strada più lineare e più stabile. La scelta verrà effettuata a seguito delle verifiche geologiche. L'intervento che attualmente è alla progettazione preliminare dovrà concludersi entro il 2021 e avrà come soggetto attuatore la Regione. Attualmente sono in corso i rilievi topografici. Questo è il nostro ultimo servizio non ce ne sono altri grazie a tutti per aver scelto Notizia di Prato Tg Arrivederci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.